Il gioco prende il sopravvento sulle cose in serie, di lavoro, si da forma, si da forma e... La nostra cosiddetta... ...è anche molto poco costoso. Quindi questa è un'applicazione appunto prossima. Non vi comprare niente... ...non si fa nessuna cosa molto... C'è anche un collega radiofonico, perché chiaramente non potevi farti mancare anche la radio nel tuo percorso, se ti va di annunciarlo noi lo ascoltiamo volentemente. Bri... Ciao... Buongiorno, buongiorno, buongiorno... Raccontaci un po', si tratta di un palio del gioco... ...le prime trovate... ...scopri l'università in campus all'ottocento... ... ...praticamente... ...per rinfaccia il Beckmaster... ... ...lanciano i dadi e... ...ci vai... ... 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 Loro sono un duo indie pop americano Signore Dio mio Loro sono un duo indie pop americano In riferimento al tema trattato dell'Esso C'è la faccia gioiosa e al fianco c'è l'altra faccia di Morsiglia Loro è un duo indie pop americano Loro è un duo indie pop americano Loro è un duo indie pop americano Penso non c'è scritto ma lo intuisco Lo sai Sono tutti consegnati Cd, le dischetti vari Non le rivedrò mai più con le foto Quelle che abbiamo sul telefono Loro è un duo indie pop americano 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 Con me è un duo indie pop americano Loro è un duo indie pop americano Loro è un duo indie pop americano Loro è un duo indie pop americano di berlino registrata nel 1976 eva e caterina non volevo dire delle fatte in bianco e nero erano già colori non c'erano niente però tutti si sentono marsigliesi ricchi e poveri cercheremo di darvi dei conti no dice siamo tu canse a basso costo mio nome è turbo e con la voce di artonella clerici e se da un motore togli un cd